Niente apparentamenti con i partiti, gli unici apparentamenti che ho fatto sono quelli con le piazze. Così Ammedeo Bottaro, candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra al ballottaggio del 14 giugno, ieri sera si è rivolto alla gente che ancora una volta lo ha colto numerosa in Piazza Libertà. Con lui Mimmo Sant'Orso, la nuova consigliere regionale, eletto con noi a sinistra, e Deborah Ciliento, candidata del PD non eletta al Consiglio regionale, ma che ha raccolto molti consensi a Trani nella provincia Bat. Quanto alle comunali di Trani, i termini per gli apparentamenti ufficiali con altre coalizioni e candidati sono aramai scaduti, ma Bottaro ha chiarito. Partiamo da 0 a 0 con il mio competitor, il centro-sinistra unito, però è già una vittoria. Il suo appello alla piazza Fessosa è stato uno solo. Andate a votare domenica prossima, non andate al mare, ha detto. O meglio, andate al mare, ma andate anche a votare. I tranesi devono sapere, ha precisato, che perché io diventi sindaco, devono tornare a votarmi. Amedeo Bottaro ha spiegato, infatti, che è necessario vincere per poter cambiare la città. L'elenco dei problemi, cui cominciare a lavorare da subito, è lungo. Tra le priorità, il candidato sindaco ha indicato la macchina amministrativa, che è fatta di persone e va motivata, ma ha anche parlato del problema economico con il debito pubblico da risanare, che ci è stato lasciato. Amedeo Bottaro, però, non trascura nemmeno la necessità di garantire un'estate decorosa ai tranesi a stagione balneare già cominciata. Dobbiamo rendere fruibile la costa, garantire una balneazione sicura, un mare pulito e un cartellone di eventi ha continuato. Ma sarà il più bello perché sarà fatto dai tranesi. Su tutti, però, spicca l'emergenza ambientale, con la discarica comunale sotto sequestro e gli smaltimenti illeciti nelle cave che tornano a fare paura. Occorre vigilare per capire cosa sta accadendo in tutte le cave dismesse, ha spiegato. Bisognerà fare un monitoraggio vero e naturalmente occorre capire, a concluso, qual è la situazione della discarica comunale.